Aliblu Malta si rifà viva. La compagnia maltese che una settimana fa ha annullato tutti i voli in programma dallo scalo perugino ritorna con una nuova proposta. Dal 13 luglio potrebbero infatti partire voli da Perugia per Cagliari e Trapani. E non solo, ora c'è anche Budapest. A darne la comunicazione è stato ieri Mauro Agostini, direttore di Isolo Pumbria, durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio 2017 della partecipata, azionista di punta dell'aeroporto perugino. Agostini ha letto un'email inviata da Teodosio Longo, presidente di Aliblu Malta, in cui la compagnia dà la disponibilità a far partire le tre rotte a breve. Ora la decisione spetta a Sase. Morena Zingales, Umbria Giornal, TV Perugia.